La squadra navale è sostanzialmente il pilastro operativo della Marina. Parliamo di circa 18.000 persone, prevalentemente militari, distribuiti nei comandi dipendenti, nei comandi in supporto e ovviamente il personale che opera a bordo delle navi, degli ericotteri, degli aerei, ma includo anche i fucilieri della Brigata Marina San Marco e il personale che lavora nell'ambito dei centri di addestramento. Desidero ringraziare di vero cuore il produttore cinematografico, l'amico Claudio Costa, che mi ha chiesto di parlare delle mie esperienze sull'Arier, questo aereo formidabile. Quindi davvero lo ringrazio perché mi ha dato anche un'opportunità di andare a scavare nella mia memoria. Sono stato travolto dalle onde sul mare della mia vita, che mi hanno travolto con questi ricordi di avventure, di errori e successi, di gioie e di dolori, ma anche di pietre miliari, di passi importanti della mia vita che hanno un po' determinato il mio destino. Il destino non l'ho mai voluto subire passivamente, ho sempre cercato in qualche modo di forgiarlo per quanto è possibile. E quindi scavando nel passato mi sono imbattuto anche in insegnamenti che ritengo possano essere utili anche per i giovani di oggi, giovani che sono alla ricerca di una rotta da seguire, giovani che hanno un obiettivo in mente da raggiungere, giovani che si trovano purtroppo in un mondo che è ancora molto governato dagli anziani e che spesso li ascoltano e li guardano con l'orecchio, l'occhio dell'ipocrisia, che è uno dei grandi mali della nostra società. Quindi, fatte queste premesse, ho pensato di suddividere questo mio racconto in due parti. Una prima parte, che è questa, in occasione della quale voglio spiegare un po' come ho fatto per arrivare al risultato appunto di diventare pilota di aria, realizzando un mio sogno. E con questo voglio lanciare anche un messaggio di speranza a tutti i giovani che hanno un sogno e che vedono però davanti a loro delle grandi difficoltà, dei grandi problemi. E quindi i sogni possono essere realizzati se si ha determinazione, coraggio e voglia di fare. Non ho certo la pretesa di avere in tasca la chiave del successo. Tuttavia, per avere successo ritengo che sia fondamentale scoprire subito, sin da piccoli, quali sono le proprie inclinazioni, quali sono le proprie passioni, capire che cosa ci piace fare, per poi mettersi sulla rotta giusta ed arrivare al successo. È fondamentale avere coraggio, perché bisogna avere il coraggio anche per cambiare rotta nel momento in cui ci si accorge che vanno fatte delle deviazioni rispetto a quella originaria e bisogna farlo con libertà di pensiero, con libertà di ponderazione. Bisogna farlo anche col cuore, facendosi aiutare dalla mente, ma mettendoci anche il cuore. Bisogna avere coraggio anche per reagire nel momento in cui abbiamo subito un torto nel momento in cui il nostro merito non ci è stato riconosciuto. Ne va della nostra dignità personale, ma ne va anche per il fatto che il merito, secondo me, bisogna sempre cercare di farlo prevalere. Attenzione, perché bisogna anche riconoscere i meriti altrui, con sincerità e ormità, soprattutto quando si incontra qualcuno che è più bravo e capace di noi. È fondamentale avere coraggio anche perché il successo implica la necessità di superare delle difficoltà, di accettare dei rischi, quindi il coraggio serve anche per questo. È un po' come investire i propri soldi nel settore finanziario, quindi un conto se ci si accontenta di investirli in buoni del tesoro e quindi si può solo sperare di riuscire a mitigare un po' gli effetti dannosi dell'inflazione. È un conto invece se li investiamo nel mercato azionario con coraggio, con pazienza, avendo tempo, in modo tale da poter incrementare sicuramente il nostro capitale. Con questo non voglio dire che fare soldi e arricchirsi debba essere un nostro obiettivo, un obiettivo della vita, anzi tutt'altro. Nel mio caso non ho mai avuto l'obiettivo certamente di arricchirmi. Quindi benvenuti a bordo di questa mia storia e davvero mi auguro che possiate sbarcare portando con voi qualcosa di buono e anche qualcosa di utile. Grazie a tutti.